Per riuscire a far vivere la città, a portare tanti giudici. Però, sto sicuro che ce la faremo, ci riusciremo, dobbiamo avere fiducia e recupereremo tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Ora rispettiamo le prescrizioni che ci arrivano dalla cabina di regia, perché più rispetteremo le prescrizioni, più ci metteremo velocemente alle spalle questa situazione di emergenza. Vedrete che finirà l'emergenza sanitaria e riusciremo a superare anche l'emergenza dal punto di vista economico. Buona serata a tutti, da casa. Magari ci collegheremo, perché altra porta...